non posso dire che poteva andare peggio tranquillamente lo posso dire perché poteva andare peggio decisamente poteva decisamente andare peggio sinceramente quindi abbiamo perso però è stata una sconfitta né netta ma a livello di gioco neanche tanto perché secondo me ci sono stati dei buoni spunti contro la virtus devo dire diciamo diciamo che la poteva essere più equilibrata la virtus è partita bene fin dall'inizio e ha tenuto e ha tenuto bene la partita cioè pistoia non ha mai avuto una vera e propria reazione un po timida forse nel terzo quarto ma poi a parte della niente non è successo molto in campo è successo un po di casino fuori dal campo non sto a specificare però un po tra tifoserie è successo un po del casino poi cosa ti è successo vabbè fuori fuori dal campo sicuramente abbiamo vinto noi perché cioè abbiamo ci siamo fatti sentire di più rispetto ai tifosi della virtus quindi sugli spazi abbiamo vinto noi i tifosi della virtus assenti e allora parlando dei singoli direi che Michael Forrest è stato ogni ora in campo sicuramente e poi anche Criston un esordio è un po' così così ma ce lo potevamo aspettare che è arrivato lunedì quindi insomma non è tanto che è arrivato quindi ci poteva anche stare ha fatto abbastanza secondo me poi esordire contro la virtus è sempre difficile anche per un giocatore come Criston e poi gli altri tutti da compitino e poi l'unico sottotono probabilmente è stato Braikovic quindi Braikovic è stato l'unico sottotono peccato perché dopo la vittoria contro Napoli c'era un po' più di entusiasmo invece niente siamo andati lì con zero aspettativa alla fine io ero là a Bologna quindi insomma ho seguito la partita dal vivo e alla fine non c'è stata molta partita però non abbiamo preso un'imbarcata troppo grande quindi questo comunque è importante detto questo la prossima è contro Cremona a Cremona quindi altra trasferta un po' più semplice sulla carta poi le partite sono strane quindi non si fa mai sapere però sulla carta sicuramente è più abbordabile quella di Cremona sicuramente anche perché Cremona è dietro di noi quindi vincere non sarebbe male per poi arrivare contro Venezia in casa nostra con la fiducia a mille quindi niente post partita corto perché non c'era molto da dire sulla partita ci sarebbe molto da dire su quello che è successo fuori partita ma forse ne parlerò in un altro video ma forse per adesso insomma vi lascio con questo video e vi dico alla prossima partita e forza pistola